Un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nel territorio di Catanzaro colpite dagli effetti della pandemia è la misura predisposta dall'amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo che ha ottenuto dalla Regione Calabria il finanziamento di 100.000 euro che saranno destinati ad aiuti diretti alle imprese penalizzate dalla crisi economica. A partire da lunedì 18 ottobre potranno presentare l'istanza le aziende con sede legale operativa nella città di Catanzaro che dimostrino un effettivo calo del fatturato medio nel 2020 pari o superiore al 33% del fatturato medio dell'anno precedente. Finanziamenti di 2.000 euro ad azienda considerando che devono avere sempre dei requisiti quindi non sono tantissimi però è comunque un minimo aiuto che l'amministrazione comunale vuole riconoscere a tutte le aziende che hanno avuto danni da questa pandemia. La misura rientra nell'ambito di una concertazione più ampia a sostegno delle imprese del territorio. Nei prossimi mesi nell'ambito di un accordo di programma con la Regione Calabria saranno pubblicati nuovi bandi destinati alle aziende della città per aiuti fino a 200.000 euro per imprese giovanili, start-up che operano nel campo della cultura, della creatività e del turismo a cui si aggiungerà anche un altro investimento che riguarda le imprese sociali e inoltre in fase d'avvio l'iter per la trasformazione dell'ex mercato agricolo del quartiere Lido in centro servizi per le imprese.